Nel Cilento la droga continua a diffondersi a macchia d'olio tra i minorenni, tra i consumatori anche 13 anni e 14 anni, un dato che preoccupa le famiglie, molte delle quali si rivolgono alle forze dell'ordine preoccupate per le sorti dei propri figli. La giustizia dal canto suo prova ad affrontare il fenomeno non solo con azioni di repressione ma anche di sensibilizzazione e di controllo nelle scuole. Da tempo i carabinieri entrano nelle aule con le unità cinofili, rinvenendo in alcuni casi anche piccole quantità di stupefacenti. Ma evidentemente questo non basta, i consumatori minorenni aumentano. Dire no alla droga, spiega i giovani il comandante provinciale dei carabinieri, vuol dire tutelare la propria salute e smantellare il mercato. Il messaggio che posso lanciare è sicuramente sul disvalore totale nell'assunzione di sostanze stupefacenti, soprattutto perché al di là dello sballo del momento ci sono tantissime conseguenze a cui può portare un gesto del genere e soprattutto alimentare quello che è un mercato dannato che sta dietro allo spaccio e quindi che garantisce un sistema di liceità particolarmente diffuso. Intanto restano in carcere con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, i quattro arrestati in mercoledì scorso su disposizione del tribunale di Vallo della Lucania. In manette sono finiti Manuel De Pascali, trentenne di Castelnuovo Cilento, Zaid Amsa Marocchino, 23 anni, residente anche lui a Castelnuovo Cilento, Daniele Tomasco, 46 anni, di Casalvelino e Simone Di Arienzo, 24 anni, di Omignano. Secondo la procura, vendevano la droga soprattutto ai minorenni che frequentavano il circolo ricreativo di Castelnuovo Cilento che è stato chiuso proprio durante l'inchiesta.